Ha riconquistato il pallone Cerca la battuta dalla parte opposta per Nedved che la mette giù bene Poi cerca di riuscire a stare E scivola Adalov Bertini dice che c'è Un fallo, un calcio di punizione per la Juve Fallo di Inzaghi Qui il tekel Da parte a terra Gattuso dice a Nedved di stare su Maldini fa rimproverare Gattuso Gli sta dicendo stai tranquillo Stai buono Non esagerare Stam